Da lontano 2004, anno della via del progetto, brutti ma buoni, operazione non spreco, ha avuto un forte sviluppo riuscendo a coinvolgere in maniera crescente persone ai punti vendita delle cooperative in operaio nord-est. Il successo del progetto è dovuto alla grande convinzione degli attori coinvolti che sono riusciti a mettere in moto un vero e proprio ciclo virtuoso. Molto soddisfatta di questa iniziativa, l'assessore comunale delle politiche sociali Laura Famurari, promotrice della conferenza stampa insieme a Coop, cooperatore nord-est della provincia di Trieste, che ha colto con favore le finalità del progetto perché si inquadrano perfettamente nell'obiettivo generale del piano di zona, ovvero il consolidamento e l'ottimizzazione del lavoro in rete fra tutti i soggetti che operano nell'ambito del welfare. L'altro patto dell'iniziativa è la provincia di Trieste che al fine di consentire un aumento delle quantità e qualità dei prodotti recuperabili ha contribuito all'acquisto di un furgone frigorifero nuovo con il trasporto di igiene alimentari gestito da persone che temporaneamente si trovano in situazioni di disagio, offrendo così a loro una nuova opportunità di inserimento sociale attivo. Il rappresentante della provincia era intervenuta l'assessore delle politiche giovanili Roberta Taurlao, insomma in buona sostanza a Trieste scorso anno, l'EICOP, consumatore nord-est nei suoi tre punti vendita, ha distribuito prodotti per oltre 80.000 euro. I beni donati sono stati utilizzati dalle onlus per fornire pasti ai meno abbienti, in particolare le associazioni del territorio triestino che coinvolte sono state la comunità di San Martino al Campo, la Caritas, la parrocchia San Giovanni e Paolo di Muggia, i frati Cappuccini di Montuzza e la fondazione Lucchetta, D'Angelo, Ota, Krav, Horovati.